La prima commissione del Consiglio regionale delle Friuli Venezia Giulia, con il Presidente Renzo Liva del Partito Democratico, ha sentito i vertici della Banca Popolare Fluradia e della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia sul contributo del sistema creditizio al superamento della crisi. Entrambe le rappresentanze hanno lo Stato in linea generale, le condizioni nelle quali operano e i risultati. La crisi, che ormai dura da cinque anni, ha necessariamente esposto il sistema a un forte stress, ma secondo alcuni dati i segnali della ripresa si starebbero manifestando. Alle audizioni alle quali hanno partecipato anche i consiglieri della seconda commissione sono seguite diverse domande di approfondimento, alle quali hanno fatto seguito alcune ipotesi operative su strumenti o azioni da intraprendere nel prossimo futuro, sia sul fronte creditizio che su quello delle risorse degli enti locali, delle pensioni e dell'alleggerimento del peso burocratico per le aziende.